Noi abbiamo un numero davanti all'Italia, 90 milioni di dosi se vogliamo vaccinare la popolazione italiana vaccinabile e ovviamente rispetto a questo numero siamo in forte ritardo. Noi è in ritardo l'Europa, abbiamo un conflitto aperto con le aziende produttrici dei vaccini ma questo è l'unico numero che dobbiamo avere in testa, 90 milioni di somministrazioni di vaccino. Se andiamo con i ritmi attuali ci mettiamo tre anni per raggiungere in Italia l'immunità di Grecia. Fra le cose bizzarre di questa settimana c'è stata l'apertura di una polemica con le regioni da parte di esponenti del governo e come sempre capita in Italia ormai da anni le polemiche sono generiche, per sentito dire, vaghe, senza mai dire un nome e un cognome chiaro. E quando si fanno polemiche senza chiamare in causa gli interlocutori per nome e cognome si fa demagogia e si offende il lavoro di quelli che lavorano seriamente. Nei giorni scorsi dopo settimane di trattative di confronto abbiamo stipulato un contratto di fornitura con l'azienda che produce il vaccino Sputnik. È un vaccino che non è compreso fra i vaccini trattati dall'Unione Europea e quindi dall'Italia. Quindi è un vaccino aggiuntivo che abbiamo inteso prenotare proprio per avere i vaccini necessari per immunizzare 4 milioni e mezzo di nostri concittadini con la doppia dose. Ovviamente è bene fare un chiarimento. Il contratto prevede che diventi operativo immediatamente dopo l'approvazione del vaccino da parte dell'EMA o dell'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco. Ci stiamo muovendo un po' sulla linea indicata anche da Draghi. Se non abbiamo le risposte che ci servono da parte dell'Unione Europea e da parte delle aziende attualmente contratualizzate, contratualizzate è chiaro che andremo avanti anche da soli per la parte aggiuntiva che possiamo ottenere. Quindi stiamo parlando di un vaccino che è esterno ai vaccini contratualizzati dall'Unione Europea, quindi un vaccino aggiuntivo. Riteniamo che questa scelta che abbiamo fatto e questo contratto stipulato possa aprire una strada per l'Italia. Può essere, come dire, un esperimento al servizio dell'Italia se la cosa va bene. Per quello che ci riguarda ovviamente, siccome investiamo risorse della Regione per avere un vaccino aggiuntivo, una volta coperte le esigenze dei nostri concittadini, metteremo a disposizione di tutti i nostri concittadini del nostro Paese la quantità di vaccini che dovessimo ricevere dalla casa produttrice dello Sputnik. Questo ovviamente vuol dire che l'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, deve essere richiamata a darsi tempi rapidi di decisione. Questo vaccino di cui parliamo è stato già utilizzato nella Repubblica di San Marino, in altri 60 Paesi del mondo, ha una copertura del 92%, è stato valutato positivamente da una rivista scientifica fra le più autorevoli al mondo, la rivista Lancet. Grazie a tutti.